Inizia con una chiusura l'anno scolastico per tanti studenti in Casentino. Una maestra è risultata positiva al Covid-19. Sono appunto scattate le misure per la quarantena e sono stati chiusi i plessi scolastici. La maestra aveva partecipato ad una riunione con altro personale scolastico che adesso sono tutti sotto controllo. Le scuole che sono state chiuse sono la scuola dell'infanzia di Corezzo e la scuola primaria sempre di Corezzo, la scuola primaria di Chitignano, la primaria del Corsalone, la primaria di Rassina e la primaria di Talla. L'anno scolastico comincia già con una chiusura prima ancora che le scuole venissero riaperte. Ve lo aspettavate? No, sinceramente no. Avevamo lavorato in questi mesi proprio per essere pronti da tutti i punti di vista, anche in stretta collaborazione con la dirigente. Poi è successo quello che è successo di questo caso positivo e stiamo rimettendo avanti una nuova ripartenza, che non sarà il 14, ma ormai andrà dopo le elezioni regionali il referendum. La scelta che le scuole hanno fatto, penso in accordo anche con l'Unione dei Comuni, è quella di fare didattica a distanza intanto per diversi studenti. Sì, ieri mattina con il dirigente abbiamo parlato anche di questo, credo che si stia attivando per far partire proprio questo tipo di didattica i primi della settimana, penso da lunedì a martedì. Insomma, partirà lunedì l'asilo del Corzalone e l'asilo del capoluogo di Giusti della Verna. L'unici due che sono? Sì, l'unici due che ripartiranno lunedì. Ecco, il resto anche a Corezzo abbiamo giusto anche l'asilo, anche la scuola materna. Ecco, il resto anche a Corezzo abbiamo giusto anche l'asilo del capoluogo di Giusti della Verna.